Lascio la parola. Ciao a tutti e a tutti. Sì, dunque io continuerei su questo filone diciamo un po' seguendo questo secondo blocco che possiamo dire basato sul metodo induttivo, no? Quindi c'è sul tentativo di partire dalle lotte concrete che si dislocano sui territori per arrivare poi a tracciare quei fili e quei nessi che vogliamo in qualche modo identificare per legare tra loro le istanze di cui stiamo un po' parlando oggi. Io voglio un po' raccontare quella che è l'esperienza che stiamo portando avanti qui ad Alessandria e che riguarda una categoria lavorativa specifica che è quella delle lavoratrici delle pulizie impiegate all'interno delle strutture sanitarie. Quindi un settore che oggi insomma è particolarmente emblematico, particolarmente oggetto di attenzione anche insomma in relazione alla situazione pandemica e agli ultimi sviluppi in questo senso. Un lavoro che però ha una serie di caratteristiche che sono come dire rimandabili anche alle questioni di cui hanno parlato coloro che mi hanno preceduto in particolare negli interventi introduttivi. Innanzitutto parliamo di un mondo ad altissima femminilizzazione per cui con una percentuale di donne molto elevata ma anche quando parliamo di alta femminilizzazione ci riferiamo anche al tipo di considerazione sociale che si ha del mestiere di addetta alle pulizie, quindi un mondo femminilizzato in entrambi i sensi. Un lavoro che insomma anche in relazione al fatto che è un ambito femminilizzato è un lavoro scarsamente tutelato, quindi scarsamente tutelato su un piano contrattuale, quindi con un contratto nazionale scaduto da anni e insomma che prevede misure di dignità davvero minime, stiamo pagando di paghe orarie di 7 euro lordi all'ora, per cui insomma un contratto nazionale che non prevede tutela da questo punto di vista, a cui si aggiungono politiche aziendali che ormai sono consolidate nel tempo e che rendono ad esempio il part time come l'unica proposta di assunzione che appunto viene data alle neoassunte e che impongono una disponibilità obbligata praticamente allo straordinario e per cui insomma un ambito lavorativo in cui ecco dal punto di vista delle tutele, dal punto di vista dei diritti si sta piuttosto insomma indietro e rispetto a questo insomma tornando a collegarsi con il primo elemento di cui parlavo, quindi l'alta femminilizzazione vale la pena soffermarsi insomma su questi ultimi dati che stanno girando molto, di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni e che riguardano l'alta percentuale di donne tra coloro che nel 2020 hanno perso il lavoro, quindi insomma una percentuale che si aggira all'incirca intorno al 70% e che scusatemi e che ci dice quanto il lavoro delle donne, ripeto non solo nel senso che è svolto dalle donne ma nel senso che è proprio anche considerato mestiere da donne, quanto questo tipo di lavoro sia mal tutelato se non del tutto non tutelato appunto anche dal punto di vista della continuità di servizio banalmente. Il terzo elemento come dire che si in qualche modo che si dà nonostante questa scarsa tutela è il fatto che il lavoro di pulizia all'interno delle strutture sanitarie è considerato un lavoro essenziale a tutti gli effetti, in modo particolare ovviamente negli ultimi mesi insomma questo tema è stato come dire più considerato di quanto non si è stato considerato in precedenza, proprio perché insomma è stato chiesto a queste lavoratrici uno sforzo enorme sia in termini di rapporto tra le ore lavorate, i compiti svolti e anche in termini di rischio per quanto riguarda la propria salute e anche qui di conseguenza la salute dei propri cari nel senso che insomma si parlava prima di riproduzione e insomma emerge in questo caso specifico quanto si sovrappongano lo spazio della produzione intesa appunto come ambito lavorativo e lo spazio della cura intesa invece come responsabilità sulle proprie reti familiari e insomma sappiamo bene quanto questa responsabilità cada quasi del tutto se non del tutto in molti casi sulle donne, quindi appunto un lavoro che nonostante sia considerato essenziale che nonostante in questi mesi si dice insomma abbia contribuito al mantenimento delle strutture sanitarie pubbliche in cui insomma un lavoro che però non prevede tutele anche dal punto di vista della salute per le lavoratrici per cui insomma anche qui ci sono dati nazionali ma noi sul territorio insomma lo vediamo anche sulla base delle donne che intraprendono questo percorso con noi il numero di lavoratrici delle pulizie che sono state contagiate da Covid-19 da marzo ad oggi è insomma estremamente elevato ed è sicuramente sopra la media quindi insomma sulla base un po' del quadro che vi ho fatto rispetto alle caratteristiche diciamo di questo ambito lavorativo possiamo provare insomma a chiederci quali strategie mettere in campo per provare a scardinare questi meccanismi che ripeto sono un po' i meccanismi di cui hanno parlato negli interventi introduttivi coloro che mi hanno preceduto e che insomma in quest'ambito sono particolarmente evidenti noi abbiamo provato a ragionare a partire un po' anche da quello che era il nostro background da quella che era la storia di alcune di noi di alcune di coloro che hanno dato vita a queste esperienze quindi abbiamo un po' appunto fatto riferimento alle indicazioni che ci arrivano dal movimento transfeminista di Nuna Menos quindi un movimento transfeminista che ha saputo negli ultimi anni dare un contributo importante al discorso sul reddito su scala globale e lo ha fatto introducendo il ragionamento intorno al reddito di autodeterminazione quindi al reddito inteso come strumento di fuoriuscita dalla violenza insomma a partire da un ragionamento molto semplice e molto banale in realtà cioè se ho un'indipendenza economica posso permettermi di uscire da quella relazione violenta in cui ero implicata e andare a ricercare un'autonomia di scelta e di vita altrove ecco a partire da questo spunto che in qualche modo di una meno se non una di meno in Italia ci forniscono abbiamo come dire provato a cogliere, provato a ragionare e proponiamo ecco qui di provare a ragionare sulla scommessa che appunto i movimenti femministi e i sindacati sociali devono, possono in qualche modo provare a cogliere e sicuramente in parte stanno già provando a cogliere che è quella di considerare anche le relazioni di subalternità all'interno del mondo del lavoro come relazioni in qualche modo intrise di violenza e di meccanismi violenti per cui diventa violenza i danni della singola lavoratrice il fatto di dover essere disponibile sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro per chiamate dell'ultimo minuto straordinari diventa violenza i danni della lavoratrice ricevere i turni di giorno in giorno quindi non potersi permettere di costruire un progetto di vita seppur a breve termine diventa violenza il non potersi permettere di rimanere incinta diventa violenza il dover ricorrere al lavoro nero per portare a casa uno stipendio che sia insomma che permette di sopravvivere diventa violenza dover andare a lavorare senza le tutele anche dal punto di vista sanitario che invece insomma la pandemia dovrebbe imporre sicuramente insomma richiede e diventa violenza invece sul piano sociale più allargato il dover sottomettere la riproduzione sociale a quella che continua ad essere una produzione intesa come produzione di profitto per pochi per cui insomma il dover appiattire la vita delle persone su una dimensione lavorativa che di fatto non è una dimensione liberatoria ma è anzi una dimensione che genera e alimenta diseguaglianza per cui insomma questo è un po' il ragionamento che proviamo a proporre e soprattutto la testimonianza che proviamo a portare una testimonianza che nasce da un'esperienza concreta che come accennavo prima stiamo provando a sviluppare qui ad Alessandria come ADL Cobas e non una di meno insomma con il collettivo cittadino di non una di meno e insomma vogliamo quindi vado a concludere vogliamo quindi provare a ragionare qui di come il reddito e il salario minimo possano essere considerati anche strumenti di fuoriuscita da quello che di fatto è un vortice di violenza e profitto che appunto che ci coinvolge tutti e chi sicuramente coinvolge l'ambito lavorativo di cui vi ho parlato adesso e insomma appunto e per cui è richiesta una soluzione un intervento che sia urgente e soprattutto che sappia declinarsi in un orizzonte collettivo ecco e non settoriale concluso grazie grazie a te